Resta lontano Rebus in fase di allineamento, baglia Rabarbaro, la macchina stacca, lancio Rionda Wise che scavalca Ruben Griff all'esterno e veloce, Radix che insiste, dopo 200 metri in 14,2 Radix batti strada su Rionda Wise, Ruben Griff in terza posizione poi Rias Dei Grippi che trova posto quarta alla corda, siamo al passaggio di fronte alle tribune, sposta Rionda, va su Radix e sfila al comando così, Rionda Wise, Radix di costa, Ruben Griff all'esterno che va deciso all'attacco ma poi sbaglia improvvisamente e allora Rionda in vantaggio su Radix, allargo Rum e Coca Dei, numero 2, Ruben Griff squalificato ancora Real Desire, 46 per i primi 600, gli 800 vanno via in 1,1 e 7 decimi sul mio cronometro Bocco dell'aretto opposto alle tribune, Rum e Coca Dei va ad avvicinare Rionda Wise, in corda Radix di costa, allargo Rondò il primo chilometro sul piede dell'1,16 e mezzo, Rionda e Rum e Coca, numero 3, Rebus squalificato Radix e Rondò, ancora Real Estate, 400 alla conclusione, 1,30 e mezzo, tre quarti di miglio con un bel 14 per la frazione dai 600 a 400 finali, Rionda alla corda, Rum e Coca che attacca poi Radix e Rondò, ancora Real Estate, Real Desiree, la rottura di Rum e Coca, 1,8, Rum e Coca Dei squalificato Rionda Wise, Rionda Wise che allunga e se ne va a concludere nel più facile dei modi, Rionda Wise davanti a Rondò, Radix, poi Real Estate e Real Desiree, 2 minuti e 4 decimi sul mio cronometro, 15 spiccioli la media, la vittoria per Rionda Wise e Federico Esposito, training di Eric Bondo, i colori dell'azienda agricola a Montemiglia e la quota del totalizzatore è 2,30.